In Piazza Nazionale, a pochi passi dal murale Spernoemi, la bimba ferita da una pallottola vagante nel 2019, è stata inaugurata la nuova area attrezzata per i più piccoli con aiuole, scivoli ed altalene per bambini. Oggi è una giornata straordinaria. La nostra azione politica è sempre stata concentrata sul benessere delle famiglie, sui bambini, ma soprattutto sulla vivibilità dei nostri territori. L'installazione di queste nuove giostrine, come la creazione di una vera e propria area giochi dedicata ai bambini, vanno esattamente in questa direzione. L'impegno nostro è costante, è un territorio che ha bisogno soprattutto di nuove opportunità e di ambienti in cui le famiglie e i bambini possano realmente giocare serenamente. È un territorio costituito da tanti cittadini, abitanti che hanno bisogno di vedere ma soprattutto di toccare con mano un cambiamento. Un cambiamento che parte dal basso, dagli ultimi e soprattutto dai bambini. Il nostro impegno è costante, concreto ed oggi finalmente anche visibile. Noi ci siamo, oggi confidiamo tanto anche nel supporto e nell'aiuto dei cittadini che sono sicura avranno il rispetto di quello che è il bene pubblico. Solo così realmente tutti insieme possiamo scrivere una pagina straordinaria per una municipalità che ha tanto bisogno di cambiare e sta cambiando. C'era anche Noemi in piazza per l'inaugurazione insieme al sindaco Manfredi, alla presidente della municipalità Maria Caniglia e dall'assessore al verde Vincenzo Santagada. L'intervento di ripristino dell'area giochi è stato realizzato dalla quarta municipalità, mentre alla Napoli Servizi si è occupata della rimozione delle scritte vandaliche dal murales di Noemi e della manutenzione di 300 metri di muretti. L'assessorato al verde infine ha curato il ripristino delle aiuole che sono state affidate per la gestione quotidiana all'associazione 100% Nei Pozzi. Sì, oggi piazza nazionale è un lavoro che noi stiamo portando avanti da mesi insieme comune e municipalità per ridare dignità e centralità a questa piazza. Soprattutto dare questo spazio per i bambini, fare in modo che possano trascorrere delle ore di serenità proprio nel luogo dove c'è stato un atto così barbara e violento che ha colpito Noemi. È un passaggio fondamentale, importante per dare futuro e dare decoro a una parte importante della città di Napoli.